L'ok? Bene, c'è un premio particolare che vogliamo dare questa sera, l'attrice legata al territorio di Bacoli, io partirei da lei e non mi svelo ancora il nome, vi leggo prima ciò che riguarda e che è relativo alle motivazioni del premio che andrà a ricevere. Legata al territorio di Bacoli e Monte di Procida in ambito turistico, lei che con il regista Martoni ha partecipato ad uno spettacolo dal titolo Il Sindaco del Rione Sanità di Edoardo De Filippo che poi è andato in scena in tutta Italia. Successivamente ha partecipato al film Capri Revolution, dallo spettacolo teatrale il regista ha riadattato il testo e lo ha trasformato in chiave cinematografica. Dunque è un vero piacere poter premiare adesso e chiamare qui sul palco accanto a me Lusiane Perreca! Vieni Lusiane, bellissima, meravigliosa, giovanissima e nonostante la sua giovane età con un bagaglio di esperienza notevole. Chiedo la cortesia alla nostra straordinaria modella di portarmi oltre al premio anche il microfono per poter brevemente ascoltare la voce di Lusiane. E allora un premio che meriti tutto, la cinematografica...